Bene, cominciamo una serie di lezioni dedicate allo stile architettonico e vediamo come AutoCAD gestisce appunto questo tipo di disegno. La prima cosa che bisogna inserire in un disegno, in un progetto di questo tipo, sono i muri. Chiariamo una cosa una volta per tutte, perché nonostante siano passati tanti anni, continuo a vedere tutorial che lavorano in questo modo, e cioè cominciano a disegnare i muri con il comando linea. Prima però vogliamo fare un attimo di attenzione qui sotto negli strumenti di precisione che devono essere attivi. La griglia, va bene, non è importantissima, ma eventualmente ci serve come riferimento qui nello schermo, quindi va bene tenerla attiva, eccola qua. Fondamentale avere il tracciamento polare attivo, impostato sui 90 oppure anche 45 gradi. Vanno bene tutte e due. Con 45 abbiamo la possibilità quindi di direzionare, lo vediamo dopo, lascio attivo questa opzione, la nostra linea in maniera precisa anche nell'angolo di 45 gradi. Poi anche l'input dinamico, ed è comodo perché ci permette di angolare le nostre linee durante la costruzione in maniera molto semplice. Poi ovviamente gli Osnap, vediamo quali tengo normalmente ovviamente attivi. Nel mio caso vedete punto finale, punto centrale, centro del cerchio dell'arco, centro geometrico, il quadrante del cerchio, cioè i quattro punti notevoli del cerchio, l'intersezione, cioè l'incrocio tra le linee, estensione e perpendicolare. Sarebbero anche troppi, ma diciamo che questi comunque ci permettono di lavorare in assoluta tranquillità e con la massima precisione con AutoCAD. Diamo ok. E questo ci basta. Se non avete questi strumenti disponibili, vi ricordo la rotellina e basta mettere la spunta sullo strumento che volete far comparire qui sotto. Dicevo di non utilizzare la linea quando si costruiscono i muri di un edificio, perché comporta del lavoro in più, che altrimenti ci viene risparmiato se utilizziamo il comando polilinea, che di fatto non comporta nessuna variante rispetto alla linea come modo di inserimento. È esattamente la stessa cosa, però vedremo ha dei vantaggi che la linea non ci dà. Allora, facciamo così. Mettiamo giù velocemente una stanza, a caso, guardate, lunga 300, così. Poi in questo modo, quest'altro. Ecco qui. Questo è un insieme di linee, ovviamente. Per fare un muro adesso bisogna dare uno sfasamento a queste linee. Ipotizziamo quindi un muro largo 20, ci portiamo sul comando offset, impostiamo la misura, e ce lo sta, vedete, chiedendo adesso, diamo pure 20, sto ragionando ovviamente in centimetri in questo disegno. Facciamo la selezione, poi decidiamo da che parte fare l'offset. Come vedete, devo fare tutto questo lavoro, ma non basta. Poi devo fare il corso al comando taglia, che trovo in questo punto, selezionare tutto, dare invio, e cominciare l'operazione di taglia, in questo modo. risalto. Ecco, in questo caso posso fare questa operazione, tenendo premuto shift, il comando taglia diventa estenti, e poi riprendo taglia, vedete. Ecco, avete visto? Questa è l'operazione che ho dovuto fare, per ottenere di fatto il muro completato. Facciamo la stessa operazione con la polilinea. Partiamo però con una cosa un po' più seria, cominciamo a mettere giù delle misure vere e proprie. Un muro che va verso questa direzione, lungo che so, 4 metri, quindi inseriamo 400. Ecco qua, zoomiamo, ci spostiamo verso destra, quindi attenzione, dobbiamo posizionare il mouse, in modo che compaia la linea puntinata. Abbandoniamo il mouse in questa posizione, lasciando che si veda ovviamente la linea puntinata, in questo modo siamo certi che la linea viene perfettamente, in questo caso, orizzontale. Noi dobbiamo dare solo la lunghezza. Lunghezza facciamo di 500, e quindi corrisponde a, ecco qua, 5 metri. Poi andiamo su ancora di 400. Vedete che compare la linea puntinata? Spostiamoci ancora di 400 verso destra, ok. Veniamo giù fino a questo punto, eccolo là, e poi con la polilinea possiamo fare tasto destro e chiudi. Eccola qua. Ovviamente facciamo sì ricorso al comando Offset. È rimasta impostata, vedete, l'opzione 20 cm, il muro. Facciamo che questo però noi lo portiamo a 30, facciamo invio, e adesso basta selezionare la nostra polilinea e la direzione dello spostamento, per esempio questo interno. Vedete che in un attimo noi abbiamo realizzato il nostro muro, senza star via a tagliare e eventualmente ad estendere, a tagliare. Con un altro vantaggio, in più rispetto alla linea, che se noi selezioniamo questa polilinea, abbiamo immediatamente sia l'area che il perimetro qui descritti nella finestra delle proprietà. Un altro vantaggio, che se noi dobbiamo lavorarci poi con il 3D, questa polilinea, facciamo l'esempio, eccola qua, portiamoci anche su una vista, che so, concettuale, se noi dobbiamo fare un'estrusione, per esempio, se noi dobbiamo fare un'estrusione, intanto vedete che viene selezionata tutta la polilinea, mentre da quest'altra parte dovrei fare tutta questa operazione. Selezionare, ecco qua. Diamo invio, come notate, questo è effettivamente un solido, queste sono delle superfici, con tutto quello che comportano le superfici, nel senso che non si lasciano modellare come i solidi, ma questo lo vedremo successivamente più avanti in una delle lezioni di questo corso. CTRL-Z per annullare, cancello quindi questi muri fatti con le linee e tengo quelli realizzati con la polilinea. Quindi abbiamo visto due modi per realizzare i muri. Vi consiglio veramente, caldamente, di utilizzare sempre la polilinea per realizzarli, per i vantaggi che abbiamo appena visto. Nella prossima lezione vediamo come inserire i muri interni, che è molto semplice, più o meno la tecnica è la stessa che abbiamo visto, e come eventualmente ottenere i muri 3D dal nostro progetto. Alla prossima! Grazie!